Whatsapp, Viber, ma anche iMessage. Queste alcune delle miriadi di app che spopolano sugli odierni smartphone e tablet. Un'evoluzione della comunicazione che sta comportando un esilio forzato dei vecchi messaggi di testo, oramai sempre più in disuso. Io praticamente gli SMS li mando solo con chi ancora non ha uno smartphone, perché per il resto uso sempre Whatsapp o Facebook, insomma, col collegamento a internet, quindi non spendo più, insomma, soldi per SMS o telefonate. Penso che siano utili, che comunque dai fanno risparmiare. Si può sentire la mancanza però del vero e proprio messaggino di testo. Sì, io comunque dai li utilizzo ancora, perché alcuni miei amici non hanno, non avendo Whatsapp, li utilizzo ancora. Trovo che sia molto comodo, non spendi niente, quindi è abbastanza efficiente. Io ho un tablet, sì, uso solo quello praticamente adesso. Io veramente non abitando più qui, non so più niente sul 3G, eccetera, perché abito all'estero. E so che qui comunque la wifi è aperta, ma bisogna sempre mandare il messaggino via telefono, che io non ho, e quindi non riesco di utilizzare niente. Un riscatto collettivo per rispondere ai costi di SMS e chiamate che prosciugano sempre troppo in fretta il credito del proprio cellulare. Obiettivo salvaguardia del portafoglio che nella crisi economica attuale è diventato sempre più infelice.